Straordinari trasferte e rilevazione delle presenze, corretto inquadramento dei lavoratori ed organizzazione del lavoro. Questi alcuni dei temi al centro della vertenza che ha portato allo sciopero di 8 ore di venerdì 14 ottobre dei dipendenti delle filiali UPS che nella retino interessano 15 dipendenti impegnati nella filiale di Badia Alpino. I lavoratori dell'UPS in appalto presso il deposito dell'UPS di Arezzo e Calenzano scioperano per rivendicare dei diritti salariali migliori. Dobbiamo dire che i lavoratori non scioperano contro l'UPS ma contro le cooperative di cui sono soci lavoratori e hanno gravissimi problemi sia di sicurezza sul posto di lavoro sia di applicazione del contratto nazionale. Possiamo fare tantissimi esempi, io ne prendo due soli. Per il periodo di malattia nel nuovo accordo prevede che siano ritribuiti fino al primo giorno i giorni di malattia. Invece la nostra cooperativa si è data da fare a mettere in atto il regolamento interno della cooperativa che prevede il pagamento dal terzo giorno in poi. Un altro punto molto importante sono le ore di straordinario. È stato sottoscritto sempre nell'accordo nazionale uno strumento che è in grado di visualizzare le ore lavorate dai ragazzi. Doveva essere già in funzione da giugno. Siamo a metà ottobre e ancora non si è visto nulla e le previsioni dell'azienda che comunque sia ha risposto all'invito della CGL seppur tra mille inviti. Alla fine è venuta un incontro a livello regionale ieri mattina a Firenze ancora non si è messa in regola. Si parla, ha fatto tante promesse e si parla di una messa in regola che va da 3-4 mesi.